A un'etta rubato l'oro di San Donato e l'uso l'antifurto. Questione migranti. Il Vescovo Monsignor Antonio De Luca accoglie i migranti in arrivo al porto di Salerno, presente al molo 3 gennaio, racconta la giornata di domenica. Fondi per la scuola di infanzia dall'inchiesta del mattino. Il ministro Fedeli toglie oltre 6 milioni alla campagna dal totale matematico del 2 ottobre. Sant'Arsenio. Dal lunedì 20 novembre in vigore il nuovo sistema di raccolta porta a porta, sistema potenziato e semplificato. Proposta fondazione certosa. Il circolo Carlo Alberto a fianco della Montepruno. Felice Tierno. Sosteniamo l'idea del direttore albanese perché ci crediamo. Buongiorno gentili telespettatori, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News che apriamo quest'oggi con la cronaca ladrinazione nella scorsa notte ad Auletta. I malviventi entrano nella chiesa di San Nicola di Mira e rubano il baule contenente l'oro che i fedeli hanno offerto in segno di devozione al santo patrono San Donato. Indagano le forze dell'ordine. Giuseppe Promolla. Scalpore è soprattutto sdegno per quanto accaduto questa notte ad Auletta. I malviventi sono entrati in azione e sono entrati all'interno della chiesa di San Nicola di Mira in pieno centro rubando l'oro del santo patrono San Donato. Secondo una prima ricostruzione, i ladri, una volta introdotti sia all'interno della chiesa, si sono diretti verso la cappella in fondo la navata destra dove è custodita la statua del santo e l'oro offerto dai fedeli in segno di devozione. La cappella è protetta da un antifurto ma i malviventi sono stati abili a deluderlo. Una volta all'interno hanno rubato l'oro custodito all'interno di una cornice fatta costruire proprio dai fedeli e che nel corso della consueta processione precede il santo. Un bottino ingente per i ladri quantificabile intorno ai 10.000 euro ma a prescindere dal valore economico dell'oro quanto accaduto ha suscitato scalpore e soprattutto sdegno per il valore morale dell'area furtiva che come detto rappresenta un segno di devozione dei cittadini a Olettesi a San Donato. Questa mattina l'ha scoperta con l'immediato intervento sul posto dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso e capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si tratta del primo furto avvenuto all'interno della chiesa di San Nicola di Mire, infatti negli ultimi anni si segnalano il furto del denaro all'interno delle cassette in legno delle offerte e poi lo scorso anno il furto di un marmo raffigurante lo stemma di una famiglia gentilizia risalente al 1600 dal notevole valore economico. Domenica scorsa il 22esimo sbarco al porto di Salerno, anche in questa occasione il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca era presente per offrire conforto e supporto ai quasi 380 migranti e per regalare un primo momento di sollievo dopo mesi particolarmente duri e difficili. Monsignor De Luca ai nostri microfoni racconta la giornata di domenica che è stata caratterizzata da tanta tristezza per l'arrivo di 26 salme di giovani donne lanciando anche un monito alle istituzioni per intervenire prima che si trasformi in tratta degli esseri umani. Ascoltiamo Monsignor De Luca. Tutti coloro che si sentono interpellati da queste vicende umanitarie cercano di essere presenti e talvolta anche per un semplice supporto di aiuto, di umana vicinanza. Gli arrivati di ieri sono stati distribuiti in tutte le regioni d'Italia, così come prevedono gli accordi istituzionali e attraverso la prefettura di Salerno tempestivamente hanno raggiunto le sedi a partire dalla Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Lazio e invece un problema particolare ha destato l'arrivo anche di 26 salme di giovani donne che in questo momento sono all'attenzione della magistratura. La morte è sempre un evento dolorosissimo e sconcertante. La morte è a causa di ingiustizie, di tragedie, di violenze e diventa poi esecrabile perché sono morti evitabili e noi dobbiamo guardare a questa vicenda soprattutto con una coscienza civica che si lascia interpellare perché si siano offerte a queste persone delle prospettive di legalità, di regole. Questo significa aprire la possibilità di varchi umanitari, cosiddetti corridoi umanitari e partenze legittime e soprattutto quello che in questo momento si richiede è che il controllo sui campi di raccolta dei profughi e dei richiedenti asilo che si trovano in Libia possano passare sotto il controllo di organismi umanitari internazionali capaci di poter vigilare rispetto dei diritti umani la possibilità di scegliere anche il ritorno al proprio paese. Gli organismi che sono chiamati a prendere decisioni, a sensibilizzare l'Europa, a elaborare delle regole e dei controlli che possano contrastare questi fenomeni di illegalità, la tratta umana e quella dolorosa ricaduta sulle categorie più vulnerabili, le donne e i bambini. Lo sforzo umano che si pone per cercare di dare una dignitosa accoglienza non può finire all'accoglienza e soprattutto non può sottrare l'attenzione a quelli che sono gli interrogativi e le problematiche tipiche del nostro territorio perché l'accoglienza poi suppone che nasca la protezione, l'integrazione e la formazione. La sfida dell'accoglienza è molteplice ma non deve distrarci dalle problematiche reali di un territorio che non sempre riesce a dare il meglio di sé. Parliamo ora della vicenda legata alla soppressione del carcere di Sala Consilina perché il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla chiusura della casa circondariale per i giudici, la chiusura è legittima in parte. Giuseppe Promolla. Il carcere di Sala Consilina chiude definitivamente i battenti è la domanda che ci si pone all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato sul ricorso presentato dal Ministero della Giustizia verso la sentenza del Tardi Salerno che nel 2016 aveva dato ragione al Comune di Sala Consilina circa la permanenza del carcere nel Comune Valdianese. Come si legge nella sentenza, il Consiglio di Stato accoglie solo parzialmente il ricorso del Ministero. Per i giudici la chiusura è stata legittima anche se la situazione avrebbe richiesto un coinvolgimento delle parti originarie ricorrenti in quanto rappresentanti della collettività locale e la classe forense locale onde porli in condizione di partecipare al procedimento relativo. In sintesi, il Comune doveva essere coinvolto nella vicenda. La vicenda è iniziata il 27 ottobre del 2015 quando il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia aveva disposto la soppressione della casa circondariale. Il Comune di Sala aveva presentato ricorso avverso a tale decreto con il Tardi Salerno che nel 2016 aveva comunque dato ragione al Comune sottolineando come il decreto avesse violato il principio della territorialità dell'esecuzione penale e non avesse considerato la circostanza dell'unicità del carcere di Sala Consilina. Da qui l'appello presentato dal Ministero della Giustizia al Consiglio di Stato che nella serata di ieri cambia in parte le carte in tavola. Nessuna violazione del principio di territorialità dell'esecuzione della pena in quanto il penitenziario di Sala Consilina non è l'unico penitenziario limitrofo al Tribunale di Lago Negro in quanto il predetto tribunale è servito si legge nella sentenza dalla casa circondariale di Castrovilari che dista solo 75 km mentre il penitenziario di Sala Consilina dista circa 40 km. Inadeguatezza della casa circondariale salese è un altro punto della sentenza inadeguatezza in termini di dimensione sicurezza, stato tant'è che rimetterla in condizioni di piena funzionalità implicerebbe, si legge una spesa e una sottrazione di mezzi assolutamente anti-economica. Intanto il carcere a Sala Consilina resta chiuso in attesa di capire quale effetto produrrà questa sentenza del Consiglio di Stato. E ora torniamo a parlare dei fondi destinati per l'istruzione dei bambini dai 0 ai 6 anni. Dal quotidiano il mattino parte una nuova inchiesta che evidenzia come il calcolo matematico aveva stabilito per la campagna una somma da destinare pari a 20 milioni di euro dato emerso nel 2 ottobre del 2017 e destinato a potenziare appunto l'istruzione per i bambini dai 0 ai 6 anni. Il ministro Fedeli però al momento della suddivisione delle risorse ha tolto gli oltre 6 milioni di euro riducendo così i fondi destinati alla campagna per le scuole di infanzia a poco più di 13 milioni. Vediamo. Al danno si aggiunge a distanza di pochi giorni la beffa. Lo scorso sabato la notizia del riparto effettuato dal governo sui fondi destinati per la scuola di infanzia. Un riparto che ancora una volta in barba a quanto viene annunciato premia le aree italiane del nord andando a penalizzare il cattivo sud. Ma un'inchiesa del quotidiano il mattino pubblicata ieri evidenzia un altro dato che ha il sapore della beffa. Una prima analisi è evidenziato come tra le regioni italiane nella ripartizione lo Stato aveva dato un valore più basso per i bambini da 0 ai 6 anni del sud rispetto al nord. In primis la valle d'Aosta in cui il valore dei bimbi supera i 103 euro oppure per riferirsi alle regioni interessate da referendum quale Lombardia 76 euro e Veneto 73 passando per i 75 euro i bambini del Piemonte. I bimbi delle regioni del sud valgono per lo Stato oltre 20 euro in meno con i bambini della Campania che addirittura sono all'ultimo posto nella graduatoria della ripartizione dei fondi valendo appena 43 euro. Questa è la graduatoria finale ma ciò che più sconvolge nell'analisi è il forte cambiamento che è intervenuto in appena un mese. Il quotidiano il mattino infatti nella sua inchiesta ha evidenziato come rispetto al 2 ottobre quando fu realizzato uno schema di ripartizione su calcolo matematico al 2 novembre con l'effettiva assegnazione dei fondi il governo Gentiloni ha ulteriormente ridotto l'erogazione dei fondi al sud e li ha ulteriormente aumentati invece al nord. Lo schema pubblicato del mattino evidenzia subito e nettamente la disparità e per la Campania si tratta di una beffa ulteriore del valore di oltre 6 milioni di euro. La Campania è già ultima nella prima classifica e è stata ulteriormente penalizzata dal governo risultando la regione a cui sono stati ridotti di più i finanziamenti rispetto al totale matematico spettante. L'analisi effettuata da Il Mattino parla di tre anni e mezzo di promesse e racconta le tappe partendo dalla promessa dell'ex premier Renzi nel 2014 in cui annunciava di dare più fondi per gli asilini dual sud alla riforma della buona scuola nel 2015 che avrebbe dovuto dare vita ad un sistema integrato di educazione ed istruzione per i bimbi fino a sei anni passando dall'aprile del 2017 in cui il governo Gentiloni annunciava di voler garantire un riequilibrio territoriale con il decreto 06 per i bimbi e la scuola di infanzia fino alla decisione del ministro dell'istruzione fedeli che ha ripartito i fondi come si è visto togliendoli ulteriormente al sud per passarli al nord un esempio nel totale matematico i bambini della campagna toccavano oltre 20 milioni mentre i bambini del piemonte erano destinati poco più di 14 milioni il ministro fedeli ha invece operato portando i bambini del piemonte oltre 15 milioni e 600 mila euro e alla campagna 13 milioni e 700 mila euro e torniamo restiamo in tema di asilo il piano di zona e il suo responsabile Antonio Florio da almeno tre anni hanno attivato il servizio di accreditamento dei servizi per l'infanzia sala consiglina comune capofila è ormai nella storia degli asili nido presenti Antonella Citro accreditamento dei servizi per l'infanzia è uno degli ultimi obiettivi che si è prefissato il piano di zona un momento importante che pone l'ente di fronte a una serie di decisioni utili per la comunità dall'ultima determina dirigenziale si evince il lavoro che si sta effettuando e sull'argomento e sulla procedura di accreditamento regionale è intervenuto il responsabile del piano di zona Antonio Florio è sicuramente un servizio importante da circa tre anni viene realizzato sul terreno Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.